Per Terre di Cinema con Maurizio Calvesi, uno degli ospiti di questo festival dedicato alla fotografia cinematografica, ovviamente si tratta di un direttore della fotografia che quindi ancora meglio ci potrà spiegare l'importanza di un festival dedicato a questa parte del cinema che è spesso un po' nascosta ma è forse la più fondamentale. Spero che non lo sia più una parte nascosta, mi auguro sempre che si vada al cinema conoscendo anche il mestiere o quantomeno una conoscenza di tutte le professioni, perché comunque siamo dei professionisti, passare come artisti mi sembra un po' tanto, però è importante fare bene un lavoro. Che rapporto bisogna instaurare con il regista e com'è stato quello con Giorgia? Con il regista, con Giorgia benissimo per carità, anche perché se sta qui e mi ascolta poi mi dice di rimprovera, quindi è andato bene. Ma soprattutto il rapporto nasce dal momento che, nel mio caso, uno legge. Cioè leggere una sceneggiatura è già la prima fase, è il momento più interessante, anche perché poi ho sempre fatto film dove il regista era anche autore, quindi comunque aveva scritto la storia. E scrivere una storia, cioè leggere, capire cosa pensa e poi parlarne, hai un rapporto diretto, immediato con quello che vuoi raccontare. Quindi tutto parte lì da una lettura. Ai giovani che stanno intraprendendo questa carriera, alcuni dei quali sono stati qui in questi giorni, che consiglio può dare? Il consiglio, io dico sempre che ho tanti ragazzi che lavorano con me, cercano, cominciano a fare questo lavoro, tanti sono riusciti, tanti piano piano ci riusciranno. Ma io dico sempre che bisogna avere un po' una regola anche di vita, osservare, essere abbastanza tenaci, essere costanti. Perché questo è un lavoro che spesso sembrerebbe sempre che non arrivi, non arriva il momento di lavorare, quantomeno una gratificazione, poi improvvisamente arriva. Però è fatto, è un lavoro di accumulo, è un lavoro che uno anche quando non lavora, comunque bisogna pensarci, ragionare, averlo dentro e poi piano piano uscire a fuori. È meglio essere selettivi o buttarsi comunque a far tutto quello che può capitare per fare esperienze? Ma sai, nella situazione in cui l'Italia oggi, quanto si produce essere pure selettivi, ma magari, però, insomma, se uno ci riesce, sì, cioè io nel mio caso un po' selettivo sono stato, per esempio, ho fatto parecchi film, non ho mai fatto un film per la televisione, forse uno per sbaglio, insomma, per esempio, ma non è che sono selettivo oppure mi fa orrore la televisione, no, la farei, però è stata una coincidenza, però oggi scopri che se non fai la televisione magari sei più raffinato, non è vero. è un modo così, è una casualità, tutto qui, insomma, bisogna essere normali, semplici, cercare di lavorare, crescere, nel crescere metterci il più possibile di quello che uno ha, magari non lo metti nei primi film, però magari dopo due, tre anni, quattro anni comincia ad avere una forma di ricerca, ecco, tutto qua. Grazie a tutti.